Continua a crescere il Vigliano, che ormai è molto di più che una semplice squadra di calcio in promozione. Una polisportiva che continua ad ampliarsi, costruendo attorno alla comunità cittadina una realtà aperta. È il primo passo del grande progetto sportivo che da anni stiamo portando avanti. Vigliano c'è e vuole mettersi in gioco. Lo dice Paolo Daniele, presidente della polisportiva, che da giovedì ha preso in mano le redini del Circolo Aurora, situato in Viale Alpini d'Italia 2, a pochi passi dalla palestra e dal campo di calcio. La presentazione di fronte ad atleti, giocatori e dirigenti. F. Civigliano subentra nella convenzione con atto notarile e firma, spiega Daniele. E il comune ha dato l'ok all'operazione. Saremo noi a gestirla. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e tutta l'amministrazione, dal sindaco Cristina Vazzoler agli assessori Valeriano Zucconelli e Luca D'Andrea, per la vicinanza dimostrata in questa occasione. Il nuovo spazio si chiamerà Clubhouse Polisportiva Vigliano Aurora e accoglierà tutti i membri della realtà sportiva. La sede principale della società resterà in piazza Conte Ferdinando Avogadro di Collobiano, sottolinea Daniele. Qui, invece, sorgerà una Clubhouse, un circolo aperto a tutti gli associati. Manteniamo nel nome il nostro glorioso passato e guardiamo con ottimismo al presente e al futuro. Da giovedì la sede del Circolo Aurora e la casa della Polisportiva Vigliano. La guida della società volge lo sguardo al futuro, ai prossimi mesi. Questa è solo la prima pietra di un progetto sportivo e sociale di più ampio respiro. Tutto il direttivo e lo staff stanno lavorando duramente per realizzare grandi cose a Vigliano. Conto di annunciare altre grandi novità nelle prossime settimane. Grazie a tutti.